A Rezzo comincia a credere in questa valenza turistica? Sì, sì, noi ce l'abbiamo sempre creduto, ovvio ci vuole tempo perché se si vuole fare il turismo quello vero e quello stabile serve molto tempo, però la strada è quella giusta, finalmente anche oggi è una bella edizione della fiera che ovviamente dipende anche molto dal tempo perché quando una manifestazione è aperta il tempo conta tanto, ottimo anche questo gioiello in vetrina che si sta stabilizzando e cresce sempre più, vedo tantissimo interesse, siamo ancora di mattina ma c'è tanta gente che entra e che compra, quindi molto positivo. Ora senza nulla togliere i cugini sienesi, però insomma i turisti ci dicono che qua c'è diciamo un'arte più tangibile, più vera, meno artefatta, la riscontra anche lei? Sì, assolutamente, io infatti nel progetto turistico dico sempre che dobbiamo ribaltare quelle che sono le nostre debolezze e farle diventare punti di forza, il fatto che non è una città turistica Rezzo oggi secondo me è un punto di forza perché chi viene qui vede una città vera, la vive come se fosse proprio una vera città toscana, cosa che invece i nostri cugini sono ormai diventati un po' troppo grandi e si percepisce molto più proprio la vena turistica, quella diciamo un pochino più brutta, cioè quella proprio più artefatta, quindi questo è positivo, ora bisogna aumentare i numeri però è anche molto. Questa Chimera al G7 che torna a Palazzo Vecchio ha visto che è putiferio nei social? Eh giusto, bene, bisogna fare secondo me un po' di rumore perché poi alla fine la sua sede naturale sarebbe Arezzo, quindi non sarà facile però magari tornasse qui sarebbe veramente d'orgoglio per tutti. Non mi sembra essere ricordato come l'assessore che ha provato a riportare la Chimera. Intanto ora riporteremo la Minerva, poi abbiamo comunque anche chiesto la Chimera, se viene, viene temporanea, poi si vedrà.